Allora, qui è 1 Toscana 024 Paolo, mi trovo in località Pasquilio, quindi nei monti a circa 900 metri di altitudine dietro a Massa, provincia Massa Carrara nel nord della Toscana e sono in collegamento con due amici che si trovano nel ponente Ligure al quale rilancio il microfono. Passo. Sì, bene Paolo, qua 1 Liguria 001, benissimo, ti ascolto molto bene, qui io sono precisamente Colle Doggia, 1300 metri tra Imperia e Sanremo, ti ascolto molto bene, quindi penso che sia superiore ai 180 chilometri di distanza in PMR. Rilancio a Pierpaolo, che poi rilancerà a te Paolo, prego Pierpaolo. Sì, qua Pierpaolo, l'India 1, no, sta usando quello radio vantoriale, scusate, Liguria 003. Sì, assolutamente fenomenale come collegamento, veramente nulla da dire. Confermo quello che diceva Fabio, è vero che sono più di 180 chilometri tra Fabio e Paolo, appunto. Tra me e Paolo un po' meno, saremo sui 160-170. La mia altitudine non la so, onestamente dovrei essere sui 400-500, giù di lì. Forse anche un pelo di più. E direi passo a Paolo. Benissimo, allora io interrompo il video, che è certamente una bellissima testimonianza per l'utilizzo dei PMR. Complice certamente la limpidezza anche dell'aria, priva di umidità, perché è una giornata di forte vento. Ripeto, io qua sono sulle Alpi Apuane, a circa 850 metri, alle spalle della città di Massa, località Pasquilio. Allora chiudo il video. Da un annetto a delle PMR che mi sono servite per motivi specifici, però la passione della radio c'è. Mi sono iscritto ai gruppi e devo dire che quella per me di oggi è veramente una grande soddisfazione. E il video penso che sia una bella testimonianza, quindi li pubblicheremo sul canale Telegram. Poi magari verranno anche pubblicati, chissà, su YouTube, perché è una utile testimonianza per quanto riguarda questi tipi di apparati a bassa frequenza, 0,5 watt. Un saluto, una buona giornata, qui Paolo, Toscana 0,24, Alture di Massa, provincia di Massa Carrara, Nord Toscana, vi saluto. Ciao Paolo, ciao Pierpaolo, qui 1 Liguria 001, grazie ancora, a presto, ciao. Ciao entrambi, ciao ciao. Vuoi fare anche tu un collegamento così? Per trovare appassionati di radio nella tua zona di copertura, unisciti a noi. Più siamo e più ci divertiamo. L'unione fa la forza. Grazie a tutti.